Un fucile d'assalto, completo di munizioni, una pistola ed oltre 80 kg di stupefacenti, tra cocaina, hashish, marijuana ed eroina. E' quanto hanno rinvenuto e sequestrato i carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo in uno dei numerosissimi controlli antidroga disposti tra le province di Bari e di Barletta-Andreatrani. A finire in manette nel corso dell'operazione, è stato un 53enne barese noto alle forze dell'ordine, di fatto il custode di un maxideposito destinato allo stoccaggio di ingenti quantità di stupefacenti. I militari lo hanno colto in fraganza di reato e tratti in arresto con l'accusa di detenzione e fini di spaccio, oltre che per detenzione illegale di armi da guerra. L'uomo nascondeva infatti nella sua abitazione, nell'auto e in altri locali a cui aveva libero accesso, complessivamente 6 kg di cocaina purissima, 8 di hashish, 2 di eroina e circa 70 kg di marijuana. La droga, in parte già divisa in dosi, era contenuta in alcuni borsoni, assieme a tutto il materiale necessario per il peso, il taglio e il successivo confezionamento degli stupefacenti. Ma non è tutto, i locali, nella disponibilità del 53enne, fungevano anche da deposito di armi. Due, quelle rinvenute dai carabinieri nel corso del blitz, una pistola calibro 9.21 ed un fucile da guerra marca Daniel Defense, calibro 5.56, dotato di ottiche di precisione red dot, oltre ai relativi munizionamenti. Per l'uomo si sono spalancate le porte del carcere del capoluogo, mentre tutta la droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti nel comando provinciale. Secondo le prime stime, una volta venduti al dettaglio, nelle piazze di spaccio del nord e sud barese, gli stupefacenti avrebbero fruttato diversi milioni di euro.